Rinasce dalle ceneri il porticciolo di San Vito qui a Mazzara del Vallo grazie all'associazione Stella Polare ASD. Uno sforzo in mane che dura da tempo ma con impegno ci siamo riusciti? Uno sforzo che dura esattamente da cinque anni perché quando noi parlavamo di riqualificare quest'area alcuni pensavano che sarebbe stata un'impresa impossibile. Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, abbiamo tirato fuori un progetto che secondo il nostro punto di vista oggi i fatti ci danno ragione e poteva essere quello giusto per riqualificare quest'area. Quindi oltre alla messa in sicurezza anche il discorso estetico e quindi l'abbinamento con l'ambiente circostante che per noi era fondamentale. Apporteremo anche delle altre modifiche, modifiche non strutturali ma solo a livello estetico proprio per adattarci ancora di più a quest'ambiente. Noi come associazione, io come presidente sono soddisfattissimo del risultato ottenuto anche perché, ripeto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Non è stato semplice, abbiamo autofinanziato questo progetto e quindi non abbiamo ricevuto nemmeno un centesimo da parte di enti pubblici e solo così, dico, per farlo in tempi brevi si poteva secondo me fare. Quali sono le peculiarità di questo porticciolo? Allora, intanto abbiamo una struttura fissa e non su pontili galleggianti, quindi quando si parla di struttura fissa significa che chiaramente l'opera è molto più consistente e quindi duratura nel tempo. Noi abbiamo avuto il supporto di un'azienda che ha eseguito i lavori, la ditta Massimo Maggio, che con grande professionalità è riuscita a mettere in pratica quella che era la nostra idea di porto turistico. Quanto è costato? Ci avviciniamo alle 500 mila euro circa, cercando di risparmiare così come fa un buon padre di famiglia quando intende realizzare un proprio progetto, noi abbiamo fatto in questo modo, quindi ognuno ha messo del suo, tutti i soci indistintamente, proprio per concretizzare quello che prima era solo un'idea, oggi possiamo dire che è una splendida realtà. Parliamo dei posti barca, quanti ce ne sono e quanti sono i soci di questa associazione e di questo porticciolo? Allora, i soci siamo oltre 200, per quanto riguarda i posti barca sono 140, gli assegnatari dei posti barca sono circa 120. Abbiamo deciso, proprio per sviluppare il nostro territorio, per quanto riguarda soprattutto la nautica da deporto e gli sporti acquatici, di lasciare a disposizione, ma è previsto anche dal regolamento, il regolamento prevede un 10% di posti disponibili per le unità in transito, noi abbiamo voluto dare qualcosa in più e ne abbiamo messo a disposizione ben 20 posti barca. Questi serviranno ad invitare tutti quei diportisti, anche delle zone limitrofe, a venire a passare qualche giorno a Mazzara e quindi dare un piccolo contributo allo sviluppo del turismo mazzarese. Quindi dove non arriva il pubblico, sempre più arriva il privato? Speriamo che ci siano tante altre iniziative, noi vogliamo essere ad esempio, perché le belle idee, le belle iniziative devono servire a far capire alle persone che quando si vuole i risultati arrivano, e certo non restando seduti, ma attivamente facendo quello che bisogna fare per portare a realizzare un progetto.